J.M. Barrie, molto lieto. J.M. Barrie, lo scrittore. Piacere. I bambini non dovrebbero mai dormire. Si svegliano più vecchi di un giorno. Una commedia? Per me sarebbe un onore se potessi usare il tuo nome per uno dei personaggi. Lui è Peter Pan. Non sono io Peter Pan, è lui. L'isola che non c'è, è un posto meraviglioso. Un giorno ti ci porterò. Johnny Depp, Kate Winslet, Dustin Hoffman. Un genio. Per il ciclo This is Christmas, Neverland, un sogno per la vita. Questa sera alle 21.15 su TV8.